Come è strutturata questa conferenza spettacolo che avete costruito? È un rapido alternarsi di testimonianze in video, testimonianze raccontate dagli attori e testimonianze degli ospiti delle varie associazioni che hanno collaborato, in questo caso questa mattita con l'associazione Cosa Vostra, l'associazione Libera, Centro Documentazione Polesano. Tutte le storie che vengono raccontate, sia quelle in video sia quelle dal vivo, sono storie vere, accadute qui in Polesine, nella nostra terra, che testimoniano un'infiltrazione mafiosa che fa parte della nostra quotidianità, di cui non sappiamo molto. Qual è il messaggio che volete lanciare a questi ragazzi? Questa mattina già sono uscite delle parole importanti. Il messaggio è quello di unirsi, parlare, dire, non essere schiavi della paura. Le mafie vogliono separare, noi invece dobbiamo unirci. Unirci nelle piazze, come diceva Rosa Balistreri, per denunciare. Unirsi nella Casa di Salvaterra, Abba Di Apolesine, come fanno le associazioni contro le mafie. Unirsi, come fa Libera, con l'associazione di Don Ciotti. Sì, parlare, dire, non essere schiavi della paura. Questa conferenza spettacolo è nata due anni fa ed è iniziata con tante ricerche fatte sul territorio, Polesano e appunto Veneto, nella nostra regione, e affidandoci anche a personalità che potessero darci una mano e scoprire le storie venete legate comunque alla mafia. Ad esempio, nomino sempre Don Albino Bizzotto, che è un padre padovano molto attento soprattutto agli ultimi e che mi ha dato poi il contatto di Maurizio Dianese, un giornalista originario di San Donato di Piave, che mi ha aiutato poi nella ricerca successiva, quindi sulla mafia del Brenta, su Felice Maniero, quindi tutto il fenomeno mafioso che è tipicamente nordico, per poi arrivare ad esempio Cristina Pavesi, la vittima del tragico incidente in treno, organizzato purtroppo proprio dalla mafia del Brenta. E tutto questo è nato da una domanda che è scaturita dal personaggio di Rosa Ballistreri, un'artista, una cantastorie, l'ultima degli ultimi, proprio come ho detto anche di Don Albino Bizzotto, quindi questa attenzione agli ultimi, a Rosa, una donna che ha lottato per tutta la vita, per ottenere i propri diritti, per parlare di libertà, ma soprattutto della sua terra, e quindi per combattere quello che è stato e per fare in modo che tutto questo non accada più. E ultima cosa che vorrei aggiungere, un grazie fondamentale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padovero Vigo, che ha permesso che questi incontri potessero essere fatti anche nelle scuole. Grazie. Niente.